salvietti dimmi bene silvietti il motore che hai montato su quel playboy lì che motore è quante ha quanti ampere che consuma che amperaggio consuma come salite buona voglio dire per voi si ora ho fatto fare i disegni di questo l'ho fatto fare all 85 per cento perché è troppo grosso quello lì con questo motore qui va troppo lento l'ho capito perché l'ho fatto fare un pochino più piccolo dovrebbe venire più leggero da quando andrà su un po meglio ok grazie